Cristiano, nel tuo intervento durante il forum hai focalizzato l'attenzione sullo sport come componente fondamentale per la formazione di un individuo, è anche stata la tua esperienza personale? Sì, oggi è stato interessante perché credo che in questo forum fossero presenti tutti i player, tutti i player della vita, gli studenti che sono gli attori principali e tutte le figure poi che ruotano intorno alla crescita dei ragazzi, quindi le scuole, i dirigenti scolastici, i dirigenti sportivi, chi produce quindi una possibilità di attività sportiva per i nostri ragazzi e infine i genitori perché alla fine anche i dirigenti sono genitori e noi abbiamo un grosso, meglio una grande responsabilità da adulti, da genitori, da dirigenti di mettere nelle condizioni migliori i ragazzi di fare sport. Cosa vuol dire mettere nelle condizioni migliori? Vuol dire andare a migliorare e estrapolare le qualità che lo sport ti riesce a dare, che sono la capacità di aggregazione, di unirsi nel sacrificio, nel trovare la soddisfazione nel riuscire in qualcosa che magari prima sembrava insperato. Allora questo è quello che ti può regalare allo sport attraverso il sacrificio, l'organizzazione, la capacità di impegnarsi e la vision futura dei prossimi prove and solving. Il tema di Genova 2024, capitale europea dello sport, sarà anche questo. Ci saranno gli eventi da un lato ma ci sarà la possibilità per un anno di promuovere la funzione sociale dello sport. Il signor Sindaco è stato chiaro. Lo sport deve essere inclusione, deve essere formativo, deve poter educare. L'idea di avere l'opportunità di essere capitale europea dello sport deve andare di pari in passo con la formazione. La capacità di creare eventi collaterali all'evento sportivo, in modo da gestire, indirizzare e educare le persone nel modo migliore. Per persone intendo veramente tutte le fasce di età, ma genitori e persone che, ragazzi in questo caso, praticano lo sport. E questo potrebbe essere veramente un'ottima occasione e Genova 2024 sarà il palcoscenico migliore.